Bene, perché siamo tornati in questo postaccio? Perché ti devo sottoporre una bellissima prova, Steph Dovrai rispondere a 14 domande a tema horror Fare lo sa chiunque che non ne so minimamente nulla Appunto, però è uno dei miei argomenti preferiti Tu mi hai detto, prepara un video sulle porte su qualcosa che ti piace A me piacciono i film horror, Steph, quindi vai Cioè, hai messo pure le porte a tema Più o meno, non sono proprio horror, però ci stanno bene, secondo me Fanno una bella atmosfera, non trovi? Sì, sì, sono belle, sono belle Il problema è che non sono una ceppa io di queste cose Allora, domanda numero uno Qual è il personaggio horror più spietato? Allora, qui si intende Te lo spiego, Steph Ok Ho trovato una classifica Ok Che conteggia tutte le uccisioni che loro hanno fatto nei loro film Ok Quindi prendiamo in considerazione solamente i film E uno di questi vince proprio in modo allucinante sugli altri, Steph Penso di avercelo ancora, sì, ce l'ho ancora Allora, devo fare una confessione Non so chi sia il primo Non l'ho mai visto Halloween Cioè, c'è un film che si chiama Halloween Ma che facevi la bambino, tu? Che facevi? Guarda voi film normali invece che quelli Halloween Metti, non puoi googlare che non scopriamo la classifica degli uccisi Non lo sto cercando Ma chi è questo qua? Oh, non l'ho mai visto È vergognoso Gli altri due li conosci al me Sì, ovvio Vabbè, Jason, sì Freddy lo conosce Ferre, io faccio in questo ragionamento Ok Poi ti dico Il più famoso Perfetto Allora, lo sai che addirittura ha Jason Ferre Eh, sì Ho fatto un po' di cambiamenti Tento, prendi la scosta, Steph Porca miseria E dobbiamo essere un po' a temore Allora, ti dico Jason ha fatto 300 più uccisioni Più? Ok Quello di Halloween Michael Myers 111 E Freddy 42 Ok Grazie Aia Calmi tutti qui Calmi tutti Ok, allora Domanda numero due Porca miseria Che c'è? Stare fermi Chi di loro non utilizza un'arma per uccidere le sue vittime? Allora, abbiamo Sempre Jason La bamba, l'assassina E l'enigmista Allora, qui devi un po' ragionare In base ai film che non so se tu abbia visto Con cosa uccide la bamba, l'assassina, scusami? Con un coltello? Ecco Ma non vale che lo sa Aia Ok Allora, e comunque Per chi non lo sapesse Ogni quanti anni torna Hit? Ma dai Non mi fa spiegare Perché non mi fa spiegare? Allora Già non sapevo che Hit torna Allora Ti spiego, Steph Dato che non mi hai fatto spiegare nella precedente Ok Hit è un'entità Ok Che torna e attacca appunto le persone I bambini Ogni tot anni Ok Ogni quanto anni torna? Ogni quanti anni torna? I pagliacci passano di moda Ti ho appena detto che è un'entità Non un pagliaccio E torna ad essere sorportati Dalle persone normali I pagliacci Ogni Questa è cattiva E per una curiosità che ho trovato Anche questa anch'io non la sapevo di preciso E sapevo che Passavo un tot di tempo Ma non ricordavo di preciso quale L'ho trovata girovagando Allora Ok Ogni 27 anni Precisi Precisi Steph E vogliamo rile di scosse Ok Addio Fere Prima errore Però ne ha zecato due Sì ne ha zecato due Pre me devi fare un poema per ogni domanda Penso che non te l'abbia mai detta No non me l'hai mai detta Comunque c'è da dire che Tutti e tre mi piacciono tanto Sono praticamente tre i miei preferiti Sì ma la bambassa Sì no non te piace Ma a me piace Gli hai visti tutti fin dalla bambassa Il 2 è tolto Quindi abbiamo o Jason o Freddy Ok Allora 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 Secondo me Secondo te Ok Dai Che non ama Jason Dai Ste scosse maledette Porca miseria Oh comunque Però l'hanno sbagliato solo una Sono soddisfatto Pensavo sareste stato più in difficoltà Comunici delle sue vittime freddi E entrando nei pensieri delle persone Con il suo guanto con gli artigli E entrando negli incubi delle persone L'unica cosa che so di quello lì Di quello lì Ma dai Motevi non saperla questa Perché ti metti Io non ho mai visto un film horror Io non ho mai visto un film dove c'è Freddy Però sapevo questa cosa Perché ho visto il trailer di un nuovo film Ed andava nei sogni Negli incubi Quindi ho fatto ok Allora è così Allora Qual è la storia horror più triste Cosa si intende Allora Sai che ogni person Ogni assassino horror Ok Ha comunque la sua storia alle spalle Le sue motivazioni per uccidere Secondo me Ok C'è una tra queste tre Che è molto triste Cioè che quasi gli dici Fai bene Fai bene a vendicarti Perché se lo merita Allora Quella di Jason Mi ricordo che era brutta Perché tipo Moriva affogato E gli ammazzavano la mamma È un casino Non mi ricordo bene Non ti posso dire tutto Ricordo che c'era affogato E mamma Punto Quella di Samara Morgan di The Ring Non ne ho idea Ma era su un pozzo Quindi l'avranno buttata nel pozzo Tipo Non lo so E poi quella di Freddy Proprio zero Ma la faccia bruciata lui no Quindi credo che Gli abbiano Se ti dicessi le storie Lo capiresti Steph Ok Ok tranquilla Era giusto per fare un po' di ragionamento Allora una di queste comunque non è per niente triste Cioè è tra le due Ok Ok Te lo dico già Tra le due Se sei molto in difficoltà te ne escludo una Ne escludi una Allora quella di Freddy non è triste Ok Semplicemente è un pazzo Che si rende che pazza Ok Allora la più triste è quella di The Ring No è quella di Jason Ma scusa Ha buttata in un pozzo Fede Sì ma allora Allora Samara aveva la mamma pazza Che l'ha buttata nel pozzo Eh appunto C'è da tua madre Però Jason era un povero ragazzino Che comunque è stato bullettizzato Ne ha passato di tutti i colori E in più Quelli del campeggio L'hanno buttato in acqua Lui non sapeva negare Nessuno l'ha salvato Ed è morto annegato Quindi comunque si vendica Di quelli del campeggio Mentre invece Samara Uccide tutti a prescindere Invece Vabbè la madre l'ha rifiutata E ma Gelsior è tristissimo Se ti avessero buttato in un pozzo Povero Gesù Steph va bene a vendicare Chi è il personaggio Horror più astuto Abbiamo Pennywise L'enigmista E beh l'enigmista Scusami Eh cioè ma per favore Ma che domanda era È ovvio che è lui Ok poi Chi è Che mi fa più paura In assoluto The Ring Freddi Secondo me la bamba L'assassina La condividiamo No no Steph Tu non hai idea? Davvero? Ci ho fatto incubi Per una vita Steph Avevo Ti giuro io avevo Avevo il televisore in camera Ok Quando ero ragazzina L'ho visto Io mi svegliavo la notte Con gli incubi La vedevo uscire Da quel dannato televisore Steph Ma per mesi ho fatto incubi È stato terribile Vedere quel film Terribile Perché la bambola La prendi La lanci dalla finestra Io sono traumatizzato Della bambola Perché l'ho vista La piccola O i clown in generale Non mi fanno troppo aporare Quell'accidente di bambina Che usciva dal televisore Era terribile Allora A che domanda siamo arrivati? Domanda numero 9 Chi è il personaggio Horror più forte? Abbiamo Quello lì di Halloween Che non so chi sia Jason e Freddy Freddy lo tolgo Aspetta Steph Eh Non si intende Forza fisica Ah ok Ma in base Alle loro abilità Chi è il più forte? Allora Ti dico già Michael Myers Non è che avesse Chissà quale abilità Ma era una persona Con una forza sovrumana Quindi fortissimo Di suo Ok Ok Senza abilità particolari Jason le sai Che sono quelle del videogioco E Freddy Che ti uccide negli incubi Quindi tu tecnicamente Non puoi più dormire E anche qui ho trovato Molti pareri discordanti Su internet Perché ognuno diceva No secondo me È più forte questo No questo Allora Quindi secondo me Io ti ho messo il più forte Quello che è secondo me Voglio capire una cosa A parte che sto bruciando all'infinito Ma tralasciamo Ok Il mio dubbio è Lo hai basato Su chi è il più forte Se si scontrassero tra loro O che è più forte Da affrontare Da persona che deve sopravvivere Da affrontare Da affrontare ovviamente Quindi se devo sopravvivere io Esatto Ok Allora Per me Senza ombra di dubbio Non poter dormire peggio Cioè E sai come lo puoi sconfiggere? Aha Dimenticandoti di lui Che è praticamente impossibile Contando che non dormire Ti porta pure alla pazzia Secondo me È davvero difficile Averci a che fare Vorrei smettere di bruciare È un po' di acqua No non è acqua Allora domanda numero 10 Chi tra questi tre È raffigurato come un maschio Ma in realtà è una femmina? Questa non la sapevo neanch'io E non la capirai mai Comunque sì Praticamente uno di questi È in realtà una femmina Anche se viene raffigurata Come maschio Capito? Allora aspetta Posso togliermi un attimo Un dubbio rapido Cioè? Ciacchi Di base è un maschio Ciacchi è un bambolotto Se è un maschio Allora è Ciacchi Cioè io ho sempre pensato Fosse una femmina Non è una femmina? No Oh la bambola assassina È una femmina Questa è lo stesso Una curiosità che ho trovato E che sinceramente Non era conoscenza Davvero Perché allora Sei bene? Ah certo It Non è un pagliaccio Prende l'essere in biazze Di Pennywise Ma in realtà È un'entità Che viene addirittura Chiamata la divoratrice di mondi Quindi è un'entità femminile It in realtà è una femmina Chi è che uccide su venerdì tredici? La madre di Jason Aspetta Chi è che uccide su venerdì tredici? Chi è che fa le uccisioni del film, no? Chi è Steph su venerdì tredici che uccide? Chi è l'assassino? Allora Cioè Chi ammazza gli altri? Questo è difficile Beh Non è Jason Ed è logico Perché se dici che è difficile Non può essere Jason Però scusa di Jason Chi è il protagonista nel videogioco Di venerdì tredici? Jason Quindi le kill Le uccisioni fa Jason, no? È impossibile Magari l'ho fatta solo per intripparti Steph Perché gli dice lei di ammattare? No, no, no Allora Anche questa Altra curiosità Nel primo film di venerdì tredici È la madre di Jason A fare le uccisioni Quindi a uccidere tutte le persone del campeggio Dal secondo film in poi Arriva Jason Ok Interessante, no? Chi è il più famoso? Ah, e qui mi sono basata Steph Perché è importante da dire Il film che in assoluto Ha fatto più incassi Nella storia del film Del film horror Del cinema horror Quindi uno di questi tre È stato un film Che ha totalmente spopolato E quindi penso Che sia anche il più famoso Giustamente Geronimo Pennywise L'ultimo film Un criminale Che viene ucciso Ma che con la rabbia Che ha La sua anima Va dentro questa bambola Per continuare il suo giro Di Non lo sapevo Di pazia Capito? Quindi Non lo sapevo Vabbè, secondo te Era una bambola Si No, è uno che viene ucciso La sua anima Va nella bambola Così è più probabile, no? Perché i film horror Sono tutti realistici Ovviamente No, allora non mi dire Che era impossibile Che fosse una bambola E basta Ma è ovvio Ho sbagliato la fabbricazione E è diventata un'assassina No Era più probabile E però diciamo Che tipo di criminale È Ciacchi alla fine? Allora Secondo me Un assassino Perché un serial killer Ha un super handy Che non mi Non credo che avesse la bambola Un serial killer Molto cattivo Sapevo Aia Allora Ma non sei morto Sei passato da quella giusta Vabbè, dai Vai avanti, Steph Non voglio più morire Ultima domanda Per una volta che non sto Fisso bruciando Uffa Quanti film compongono La saga di So l'enigmista Allora, sta roba è un delirio Perché sono usciti Spin off Controcosi Che senti E lo sai che Io ero rimasta un numero Ma nel 2017 E' uscito un altro E infatti Io ero Io lo sapevo Io ero rimasta 5 Pensa te Però se tu eri rimasta un numero E ne è uscito un altro E 8 Grazie Fere Non sei molto furba Era l'unica volta in cui ce l'ho Al più uno Noioso Li avrei dovuti mettere 6, 7 e 8 Allora Sì, lo sapevi che nel 2017 Ne è uscito un altro Io li ho visti tutti Fino a prima di quello A casa mia erano 5 Figurati No, io li ho visti tutti e 7 Però mi manca appunto l'ottavo Non ne ho mai visto neanche uno Ma no, Steph Io li ho visti praticamente quasi tutti al cinema Allora, non ho mai visto un film di venerdì 13 Non ho mai visto realmente la bomba di assassina ma solo un pezzo Non ho mai visto The Ring Non ho mai visto Freddy Non ho mai visto L'Enigmista Non ho mai visto Soul Non ho mai visto nulla Allora, io tutti questi film li ho visti Non tutti Perché di venerdì 13 Mi sa che non tuttissimi Ma buona parte Nightmare, buona parte Soul li ho visti tutti Chucky li ho visti tutti The Ring li ho visti Quindi sì, sto messa bene E anche qui di Halloween Qua sopra non vieta Solo sotto Ok Eh, dai Sono andato abbastanza bene Sì, pensavo Cioè, io Allora, non sono stata troppo cattiva con le domande Perché tu mi hai fatto Io non so niente Non ho mai visto una Infatti io non so nulla Ho detto, non voglio una tragedia Invece ti è andata bene, cavolo La tua solita fortuna sfacciata Che ti fa vincere anche quando non sai niente È la logica, Fer È la logica In ogni caso Speriamo che il video vi sia piaciuto Fatemi sapere se volete che preparo delle porte A tema anche io Per contrastare le porte horror di Fere E ci fermiamo così